Con Sebastiano Fronteddu, mister Delfonni, sconfitto questo oggi a Usini 2-0, una squadra che come abbiamo detto in telecronica comunque non ha mai rinunciato a giocare, anche l'ultimo quarto d'ora sotto di due gol, una squadra volenterosa, sempre la ricerca del gol con il gioco e qui a Usini non se ne vedono tante di squadre così. Credo che sia la cosa giusta questa perché noi siamo qui per giocare a calcio, poi a volte troviamo squadre che stanno un po' meglio di noi come l'usinese oggi, ma noi dobbiamo sempre provare a giocare, provare a fare il nostro gioco, provare ad attaccare perché siamo qui per questo, perché solo così si può crescere, provando a giocare la palla. Un certo momento nel primo tempo eravamo un po' di paura e quindi stavamo buttando un po' troppo i palloni, poi invece a lungo andare, anche se abbiamo preso il gol, abbiamo provato a costruire, credo che abbiamo fatto anche una bella partita anche per chi la stava guardando. Poi noi abbiamo dato tutto, una squadra giovanissima, noi c'erano 2,98 in campo, è entrato un 2.000, 3,97, un 95, quindi io sono contento anche della prestazione della squadra, anche se abbiamo perso contro una bella squadra. Viettivi, quindi per il proseguimento del campionato, il FONI avete i tre punti, sta a navigare a centro classifico. Oggi ci hanno preso tre punti da Montalbo e quindi si stanno facendo rivedere anche loro, quindi noi dobbiamo cercare il punto in tutti i campi per salvarci, è il nostro obiettivo. Grazie, in bocca al lupo.